Riesci a vederli? Ok, è copiato. Dobbiamo sparare ancora un razzo in cui trovavamo prima. Buono l'ultimo, qui in basso. Più a sinistra, il pelo più a sinistra. Fermo. Bei colpi, bei colpi. Preso. Tango down, tango down e fare poco i golpi. Qui Falcon, sul termico vedo ancora un contatto in piedi nel bosco. Qui Redfish, in avanzamento... Prova a fare il cielo indietro al bosco. Ci sparano ancora, comunque. Ok. No, qua ci sparano dappertutto. Ok. Ok. Questo contatto qua sotto chi è? Chi sono questi contatti qua sotto? Questi contatti qua sotto siete voi? Si, sono loro. Falcon, qui Redfish. Avanti Redfish. Abbiamo bisogno di soppressione sulla zona vicino al boschetto. Ricevuto, soppressione sul boschetto di prima. Soppressione sul boschetto di prima. Più sulla destra, over. Più sulla destra. Aspetta, c'è un contatto che ci sparà davanti a noi. No. Aspetta, mi lancio un rad. Rifle. We're down. Olsen. Basta, ci sono arrivati a un boschetto. Spara tutti i razzi che hai su questo boschetto. c'è uno su a destra, c'è uno su a destra, oh guarda qua arca puttana ho peso col musolo, non so come ho fatto a non esplode mi curi, riesci a curarmi, mi serve morfina mi serve morfina il nostro pilota è ferito ce l'hai morfina? io si ma è ancora razzi, se è ancora razzi devi prendere dietro il bosco si, ho 4 razzi, però mi serve morfina intanto è niente ok razzi finiti perfetto con la morfina ho visto dove sparano, c'è tipo un bunker ora c'ho 700-800 cannoncini che sparano ok adesso pressione mekerman e falco sono a 55, dietro il bosco c'è un bunker adesso incontriamo con la metriattrice, siamo a winchester razzi questo l'ho maciullato questo l'ho maciullato direttrice a comando malca puttana, qui c'è il calibro pesante però scusate mi ricevi? sei vivo berk? sono all'alto sud, esce del obiettivo, quindi occhio del bosco c'è berk, c'è calibro il brano, c'è un blindato vicino all'antenna si blindato vicino all'antenna sull'antenna alla sinistra del bosco c'è un blindato con calibro pesante proprio 50 metri sul bosco sull'antenna scallenata sull'antenna scallenata sull'antenna sc воды sull'antenna scРЕVA sull'anti sull'antenna sc io ho fatto una strage lo fermo, annicaliti tutti tutto il calibro presante non c'è più c'è solamente un mi serve un medico avete un medico? negativo, non abbiamo più medico in squadra ok, il bunker la maggior parte dei contatti sono down tutti i contatti con calibro pesante sono down ricevuto interrogativo è possibile passare tutti su un'unica frequenza passo ci mettiamo tutti sulla 55 vai vai, passate, sì check, 55 5 5 su 5 ok ok allora Inia e Furious possono scollegarsi noi continuiamo vediamo cosa succede quindi dobbiamo salire qua sopra e eliminare tutti non toccate il mezzo quello vuoto e recuperare il mezzo ci spostiamo andiamo verso 220 gradi l'elicottero copricci pure da sopra sto cercando di rianimare Begerman ma se non sei medico non ci fai e magari serviva solo un po' di morfina comunque adesso non lo porto a presso ciao ciao becchio ci ha provato niente ti porto con me ho la l'ai sacchi di sabbia poi spariamo qualsiasi cosa si muove non toccate il mezzo il mezzo è nostro tappa ripeti contatto contatto davanti a lui 260 gradi contatto 260 gradi estragliato nell'erba estragliato nell'erba state giù state giù c'è uno vicino alla c'è uno vicino ecco è eliminato attenzione che sono sdraiati questa è la nostra base non l'ha conquistata allora la base è libera sono tutti morti Jackie se ce la fai la base è libera sono tutti morti fai artigliere nel mezzo si qualcuno di voi ha visto se il generale è stato ammazzato? confermo il generale è ammazzato ok Jackie vai dentro come artigliere a me era venuto fuori che era stato ammazzato controllo il bunker vai il bunker controllo la tenta l'utilizzo ha lasciato il tuo canale tenda libera ci sono anche bende eccetera eccetera ok a questo punto della missione forse ci conviene tornare alla base e concluderla si saliamo tutti sul mezzo ragazzi tutti sul mezzo ok io torno alla base sono a corto di munizionamento la ruota a terra eh adesso proviamo a farlo muovere tutti sul mezzo eh qualcuno l'aveva rimasto fuori ok io ho potuto non mizzo non mizzo non mizzo non mizzo ah lì manca i colori no sono quasi destro lì roi no sono quasi no sono quasi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.